Auto T9 questa sera presenta Jeep Avenger nel suo showroom di Corso Milano 88 a Verona. È una grandissima soddisfazione, grandissimo pubblico, tantissime persone che sono venute a vedere una vettura che è 100% elettrica, il primo SUV elettrico di Jeep. Attraverso questa vettura, partendo da questa vettura, Jeep ha l'ambizione di diventare il primo costruttore mondiale di SUV a zero emissioni. Dicevo prima, 100% elettrica, quindi quello che preoccupa un po' tutti i clienti è che autonomia avrò, benissimo, batteria 54 kW, 400 km di autonomia nel ciclo combinato, 550 nel ciclo urbano. La ricarica con una colonnina a passaggio dal 20% all'80% in meno di 24 minuti. In meno di 3 minuti si percorrono 30 km, che è la percorrenza media giornaliera di un utente italiano. È da casa con una spina, piuttosto che una piccola wallbox, in 5 ore da zero al 100%, per una guida senza compromessi sia su strada che off-road. La sua silhouette è fantastica, le viene donata per dare massima efficienza aerodinamica. Nel suo interno ho oltre 35 litri di capienza per portare tutti quegli oggetti che oggi giorno ci accompagnano nella nostra vita quotidiana. 15 litri la media alla categoria, 34 litri la capacità di vani porto-oggetti vari all'interno della vettura. 6 select terrain con 6 modalità di guido, normal, eco, sport, neve, pioggia, pango. Scoprite di più sul nostro sito internet www.gruppomove.it oppure venite a provarla dalla fine del mese di febbraio presso i nostri showroom in Corso Milano 88 a Verona. A tutti i 9 sarai lieta di accogliervi e di presentarvi questa fantastica vettura.